siamo in collegamento con rocco ancora una volta come promesso prima allora rocco ci senti rocco ehi rocco stai cercando ancora di insi i pacchetti rocco ecco senti rocco ci senti ciao ma tu non è che posso stacchiamare ogni cinque minuti o fra ilenca la facca si vede i miei cazzi e i pacchetti a bucchia o vuoi dire che ancora stagliare ho capito ma tu ho capito ma noi eravamo senti eravamo rimasti che telefonavamo di nuovo ma fa ma perchè scusa rocco ma fino adesso quanto ne hai consegnati fino a adesso fino a ora quanto ne hai consegnati non c'è denaro forse e vabbè e lo so ma è difficile senti c'era kill sono stato nuovo a una parte no ho avuto portando i pacchetti e le passavano almeno 30 kg eccetera e' il tipo di bianco 55 scale e forse almeno sci tu avevi detto eravamo niente ma è veramente malata ma forse l'ha dato qualcosa ti ha dato qualcosa per ringraziarti ma che cosa sonaro avevo salato almeno la mancura ma che cazzo non ha detto niente niente madonna non hai capito proprio niente io sono stato 27 anni senza fare niente Ah, io fatico oggi e mi sono andata a casa senza fare niente per i prossimi 27 anni. Eh, vabbè, ma a te cosa te ne esce, scusa? No, non si può fare questa vita, ma chi cazzo ti? No, no, non si può fare questa vita, hai ragione. Senti, Rocco. Oh, se ricevono capo, se sei buono, se sei buono a fare capo. E' stavo cazzo, se sei buono. Oh, Rocco, per favore, ritermi. Stanno facendo una mazzetta maniera. Rocco. Chi è? Chi è? Io sono tutta una cosa. Che cazzo? Ma non lo so io. Chi è? Eh. Ma comunque è un buon lavoro, dai, non è che ti puoi lamentare. Ma mi dà la ritta a te, ma stai zitta. Senti, ma la giornata là com'è oggi? Eh, come la giornata oggi? Ma allora tu stai facendo proprio a posto. No, Rocco. Eh, hai già capito? Eh, hai già capito? Tu non puoi parlare con la gente, non ti puoi prendere la boffessa a me, capito? No, questo mai, mai, questo mai, Rocco. Puoi farire la gente che guarda attenta la televisione. No, 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 no. Ma fammi un cazzo non può piacere per il tuo cazzo di affangolo, eh. Oh, Rocco, per la miseria. Non ti ho detto mai a te. Ma, senti. Oh, a parte gli scherzi, comunque. No. Questo è considerato, no, che si mi roba di televisione. E qua, e che tu vuoi fare la gente. Io comunque ti ho incaffrato, mio cugino. Non cugino, mio frato cugino. Frato cugino? Lo chiamano. Ah, lo chiamano, eh. Ma lo conosco. Non so se tu lo conosci. Ma se tu non mi dici un nome, eh. Eh, se non dico, non lo conosci. Come si chiama? Eh, quello si chiama Vicenzo. Vincenzo. Eh. E cosa fa? Eh. Vincenzo. Eh. Che so? Vincenzo. Faccio canzone rap. Ah, rap. Ah, rap. Ah, rap. Eh, canzone rap. Che so ste canzoni rap? Eh, hai capito? No. Ma come si chiamano? Come si chiamano? Eh, canzone rap. Che la casa muovono come burattina che ha tenne... Come si chiama? E vita che non so vedate buona. Hai capito? Che la casa muovono tutta. Ma tu dici forse le canzoni rap. Eh. Eh, la canzone rap. Eh, la canzone rap. Eh, la canzone rap. Eh. Cosa c'entra? Elezioni. Sì, le elezioni. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Perché non ho fatto la canzone con Pabellusco? No. Ehi. Ma no, fra che la senti tu? Sì. Facciamo così. Beh. Quando è stasera noi poi ti chiamiamo, facciamo... Oppure mi chiamano due a me. Che non ti ha soldi con i telefoni. Ehi. 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 E lui fa? E poi andate in televisiva. No. Hai capito? Ehi. Vabbè vedremo. Comunque non ti posso promettere niente. No, no. Ehi. 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 Vediamo, vediamo. Io ho... Eh ok. No, buono. Ma io ho visto per gli altri che si chiama... Il che? Non è che sapessano fare i nomi... Ma nooo... I indirizzi di strade, i numeri... Ehi perché non ti posso fare? Che sei. Ma lo so. È roba se green. Eh, ma l'ha detto già prima. È roba se green panca se fosse marcia qua. Cazzo, ne sape, c'è la colpia. Eh straffa. Oh. Ehi. La prima cosa che mi hanno detto oggi... Si. oggi è il primo giorno di lavoro e anche l'ultimo. La prima cosa che mi ha detto è il pacchetto. Ma si Rocco, senti Rocco. Tu la buttati sui occhi. Si, me l'hai detto già prima questo. Se proprio Rocco mi ha detto il pacchetto, in casa quello là non c'è storia, quello là che ha ricevuto il pacchetto. Il ricevente. Tu ha detto provato, come si chiama, un vicino di casa, tu provi i suoni. Ho già provato da una, ho già domandato il pacchetto che devo prendere il paesano tu. Ho detto che no, non mi piace, non mi piace. Allora ho già detto così, ho provato alla persona, ho già suonato alla persona. Hai telefonato? Telefonato. Ho già suonato. Ho chiamato e mi ha detto, ma per chi è questo pacchetto? Ho già avuto ricevuto, no? Per chi non l'ha? Ho già detto il tuo nome, vado a tenere un tuo faccio di gioco. Oh, i buff. Oh, che ha fatto questo? Ha detto no, perchè non l'hanno proprio il pacchetto. E' il mannafangul tutti quanti? I vicini, no? Ehi, ehi. Quanti? Il mannafangul. Sì, tutto setto. Ma sono un cazzo. Ho detto, ma... Sì, ma chissà, a fine dei conti non avevo saputo nessuno di chi cazzo è questo pacchetto. Perché sono dati personali, giusto. Eh no, a fine dei conti lo stanno setto per su. Ma non erano 10. Cazzo qua. Allora, che ho detto a tutti qua? Ho detto a tutti qua. Per far scoprire questa gente, che ho già domandato, ma questo è una licenza oggi. Ho detto a tutti qua il telefono a Will Smith. Tu lo ricordi? In tuo film... Chi lo la? Man and Black. Chi? Will Smith? Tu lo tenevo quella specie vibratore umano. Chi lo la? Un vibratore, sì. E va che l'avviciniamo. Se non... Sono nata volta a tutti qua, da setto, otto, a uno a uno, il mech là, innanzi, e ci faccia la luce un bacio, così no chi lo la non ci scordano la domanda che avevano fatte prima. Come la pensa tu sta cosa, eh? È una bella idea. Oh, va bene. Però facciamo così. Noi ne sentiamo più tanto. Un numero di telefoni fra mio cugino vicino. E chi deve cantare la canzone di Berlusco. Va bene. Un baffo. Un baffo. Attenzione. Se ne carano. Se ne carano. Se ne carano. Se ne carano pure le cazze dei baffi. Figurati. Fatta buono. Ciao. Ciao, ciao Rocco. Ciao.